Com'è cambiato l'Abruzzo negli ultimi dieci anni? Dieci anni di recessione economica? Intanto abbiamo visto che ha avuto un grande flusso in avanti le attività del food, ristorazione, bar, tavole calde che hanno avuto un incremento del 16% quindi con una tendenza al nazionale, quindi è stato un grande aumento. Purtroppo non è stato così per le altre attività. Abbiamo avuto un grosso decremento, ci sono ancora oggi purtroppo delle problematiche, delle grandi chiusure nei centri città e un'altra grande problematica è stata anche il consumo, cioè la forza del consumo delle famiglie che è sceso tantissimo quindi oggi si va su acquisti mirati e specializzati soprattutto. Stiamo vedendo una timida ripresa ovviamente con tendenze variate dal dieci anni fa, cioè come diciamo poco anzi la ripresa c'è stata e trainata soprattutto dal settore food, non c'è anzi continua proprio nel settore del manufatturiero, dei mobili, del non food diciamo quindi bisogna un attimino anche le proprie attività variarle in base all'andamento di mercato. C'è una grande occasione perché io la dico così, è una grande occasione del web dove dieci anni fa quando era quasi presente oggi purtroppo o per fortuna è presente e ce l'abbiamo tra noi tutti i giorni quindi è qui che la piccola attività deve oggi cercare di andare, quindi unendosi, specializzandosi, creando un'unica piattaforma e iniziare anche questo tipo di vendita che rappresenta ad oggi un gran numero per le nostre attività.